Assessore, quale risoluzione per gli agricoltori che hanno terreni che insistono sulla piana di Gela e che purtroppo hanno patito il disagio della mancata irrigazione dei campi a causa della manutenzione alla diga Comunelli? Si tratta di una grande emergenza creata con la necessità, devo dire con sincerità, di permettere agli agricoltori di avere l'acqua, quindi non interrompere il servizio partendo da febbraio in avanti. Evidentemente il prolungamento della stagione estiva, mettiamola così, quindi della condizione di siccità ha creato la necessità di dover comunque interrompere l'irrigazione per permettere il ripristino delle tubazioni della diga Comunelli creando al contempo i disagi agli agricoltori. Ecco, una grande emergenza che però attraverso un processo di sinergia e con molta intelligenza da parte dei funzionali regionali e dell'amministrazione del Consorzio è stata risolta anticipando l'irrigazione dell'acqua che avviene oggi nell'emore di chiudere tutti i procedimenti necessari alla cessione delle reti. Quindi una boccata d'ossigeno per gli agricoltori che avevano visto in pericolo la raccolta? Sì, una boccata d'ossigeno anche in virtù del fatto che in realtà la diga è quasi piena e quindi comunque l'acqua dovrebbe essere smaltita e invece di essere gettata a mare viene utilizzata per dare ripristino alle culture degli agricoltori.